La Ferrari è sempre una grossa protagonista al di là del risultato finale, la Ferrari è il metro di misura per quanto concede il motorsport. Così si è espresso Arturo Merzario, ex pilota di Formula 1, ospite speciale di un evento organizzato dal Ferrari Club di Alessandria che si è svolto presso il centro culturale Borsalino di Peccetto di Valenza. Il suo racconto è stato un ripercorrere la storia dell'automobilismo attraverso chi l'ha vissuto e amato direttamente, una passione che è diventata mestiere e che continua ancora oggi. Il pilota Comoasco è noto per aver salvato la vita a Niki Lauda, vitiva di un pauroso incidente durante il Gran Premio di Germania del 1976. Eravamo rivali e subito neppure mi ringraziò, ha raccontato Merzario, però fuori dalla competizione eravamo amici. Questo fa pensare ad una sorta di copy-battle trasportata nel campo dell'automobilismo. Ci furono tanti problemi, non riuscivano a slacciare la cintura di sicurezza, si era contorto il telaio e c'era il pericolo che le lamiere mi tagliassero. Ha proseguito l'eclettico personaggio oggi 76enne. Al terzo tentativo ci riuscì e riuscì anche a salvarlo grazie alla respirazione artificiale e al massaggio cardiaco. Vi ringraziò solo nel 2006. Merzario ha narrato anche altri aneddoti della sua vita in Formula 1, legata particolarmente alla Ferrari, che descrive come unica ed eterna, pur avendo gareggiato anche con altre scuderie. Ad esempio con la canardese Wolf Williams disputò nel 1976 un campionato mondiale. Ha vinto 9 titoli mondiali e alcuni europei. L'evento di Peccetto di Valenza ha radunato al centro culturale Borsalino tantissime persone, fra soci, appassionati e semplici curiosi. Ciò è segno della capacità del Rosso Ferrari di unire e di aggregare, ha sottolineato il presidente del club alessandrino Franco Giuliani. Un club con 156 soci e due anni di vita. Siamo nel coordinamento dei Ferrari Club, ha continuato Giuliani, ed organizziamo costantemente eventi speciali riservati ai ferraristi, come visita a Marnello e giornate sui circuiti. Uno di questi è stato proprio l'incontro con Arturo Merzario, organizzato col patrocino del comune di Peccetto di Valenza e la proloquo Giuseppe Borsalino. Grazie a tutti.